Buongiorno sono le 5 e stiamo andando a sciare Dani! Saluto al vlog Dani! Ciao! Di qualcosa al vlog Dani! Ma guarda la neve Bob! E non pensare ai pinguini! Dani andiamo a pescare? Siamo molto fashion amici! E ci siamo di nuovo dopo un anno! Ciao amici siamo sull'asseggio via! Ciao! Io devo scendere adesso tra poco dalla seggio via e... Abbiamo preso di sci e ho tagliato questa parte perché... Vabbè ci ha messo un po' tanto e adesso l'ora non ormai... Cioè adesso proprio in questo momento dovrebbe avere il maestro ma vabbè Le piste ragazzi sono totalmente vuote C'è un silenzio bellissimo ragazzi, guardate che panorama! Che bello ragazzi! Che bello! Che bello ragazzi! Oh oh! Volo! Vediamo se li becco che cadono! Uno, due, tre! Pum! Dani è caduto! Prima pista fatta ragazzi, è andata abbastanza male, sono caduto! Ma vabbè, a me! E devo rimparare a sciare! Non che io prima sapessi sciare però comunque... Gli altri sta facendo lezioni magari adesso li... Eccoli la! Guardali la! Andiamo a vedere cosa fanno quelli! Questo mese largo e rallentiamo come da poco su! Concentratissimo Bob! No! Pfff! No! No! Oh c***o! No! 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 Non ci sono fatto la burba qua! No! Perché viste ho preso in pieno! Ragazzi! Tu non hai pienato! Stiamo andando pienissimo! No! Stiamo andando pienissimo! Stiamo salendo, ho visto i migliori! Che cosa dice Marta? Che stai studiando per lui e di te! Vuoi salutarla? Bube tu vuoi salutare qualcuno? Ciao mamma! Sera? Sono da solo Che bello ragazzi siamo arrivati su E sta nevicando Sta nevicando e non c'è neanche troppo Diciamo ci si vede bene quindi è molto figo E' molto bello Che figata poi prima stava anche nevicando ragazzi Vai 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 Andiamo Fermati ok fermo Oddio Rega in tre siete caduti Ah no sei alzato bravo Ci sei Dani? Non mi cuore che ero fermo Aiuto Fefalo sulla no fe Vai fe vai Che c***o ha fatto Ragazzi è che Dani è volato Noi siamo qua Dani è volato dritto sulla montagna Ci siamo fatti un po' di questo Magari l'avete visto Adesso sto registrando con questa qua di fianco Però probabilmente verrà molto mosso Questa sta piano piano morendo Sono felice Le condizioni sono Averranti Dai andiamo Provo freestyle Dani Via via Dani fermati Ma via dove? Occio Ballerà un po' il video ragazzi Mi dispiace Però è così Dopo cambio videocamera Lo metto che non balla Ragazzi che panorama Che panorama Che panorama Secondo me facciamo una frana Secondo me facciamo una frana Rega ma Bob sta lasciando Bob sta uscendo in parallelo di brutto E si è visto Sei zuppo No Sto lasciando in parallelo Ha preso lui E boh Lui non ha capito bene come c***o è caduto Stavo facendo la discesa da Madonna Dani Dani Cos'è? No No il palo no Se sto qua si vede a fare i video Oh figa Io la prendo larga Io la prendo larga Bob io la prendo larga Frena frena Bravo bravo no Situazione è questa Siamo qua Abbiamo appena fatto una pista nuova Fera è caduto Cinque o quattro volte Tra quella pista in avanti L'avete vista Contro una rete E noi siamo qua Ad aspettare che lui si muova il culo A mettere quei c***o di sci E adesso la rifacciamo No pala no Pala no E siamo di nuovo qua Guarda regà Bello giù Bello giù Io vado dritto Bello giù Ragazzi che bello Che bello Guardate il panorama Assurdo E ora prendiamo la seggiovia Che figata Shopping Passa con i pomodorini Qualità un po' bassa Ma almeno riusciamo a vedere qualcosa Quello dicevo Quello è l'albero Infatti è entrato qualcuno Ci ha messo una bomba Secondo me Guarda Guarda Cos'è stava Oh Cosa c'era Oh Cosa c'era Cosa c'era Cosa c'era Cosa c'era Cosa c'era C'è anche la pasta Mi hanno comprato tutto per nulla House tour Questo è il bagno Io te qui Va bene Io e Bob qua Ma chissà Così mi piace Così mi piace Allora I pomodorini Allora abbiamo i pomodorini qua La pasta che sta andando Le cipolle che stanno per essere tagliate Col caso c'è popperoncina No Non dirla Un botto di pomodorini Cipolla Pasta che non cuocela Mai Ma poi No ragazzi ma questo cade Cioè se questo cade noi moriamo Adesso metto un bel timer di undici minuti Io farei ancora un video Ma muoviti Ma muoviti cosa che vai nel lavandino Dovete cagare in c***o Fatevi fare le cose con camera Questo è il risultato del nostro Del nostro Ma sceglie Sono un po' demolito Bob mi ha fatto un po' i cocchi di È nel massimo Cioè si vedono almeno il doppio dei pomodorini Colpa sua che non gli ha voluti prendere Non lo tieni sempre appoggiato? No 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 non è legato Ah Ah Che m***o Che m***o Che m***o Che m***o Che m***o Che m***o Sta facendo delle foto Fega fate le foto Secondo giornata di sci Oggi si sciampera all'era Oggi Oggi si sciampera all'era Stava divertente Ieri sera vi ho lasciato con la clip Di lui che faceva 18 anni Adesso prendiamo l'uovo via Si sale E alle 3 si torna indietro Si vede che Allora nuova pista oggi Che il Dani non approva molto È un po' più in alto Di quella di ieri Vi faccio vedere il panorama Perché è assurdo È l'ultima volta No Oh c***o Non potete vedere Mi ha andato il casco Metciato con gli stivali Che sono questi qua E ho la giacca Metciata agli sci E noi l'altro giorno Abbiamo fatto Cioè ieri Abbiamo fatto da lì Più o meno Ok E niente Oggi c'è un pezzettino in più Veramente pronti Con il passamontagna Andiamo Emozio di parallelo A 5 Quella dove sei caduto No pala Ciao amici Non so cosa si vedrà In questa ripresa Ma stiamo andando Alla pista 5 Quella dove Dani Ha caduto sulla rete Quindi non so Cosa succederà Dani Due impressioni Andrà molto male Io confido in lui Abbiamo imparato a sciare Ci siamo a frenare Parallelo Perché non ha spazzaneve Però solo da sinistra Perché adesso non riesco ancora Però dai dai Oggi si spinge Ciao a tutti faccio il video con la sua camera interna perché sennò basta che prima interna perché sennò non mi vedo quindi siamo qua sto facendo l'ultima pista però faccio l'altro ora perché diciamo che il posto è decisamente bello e ringrazio aver visto questo video fino alla fine vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi se non avete ancora fatto noi ci vediamo al prossimo video che purtroppo non sarà bello come questo abbiamo prossimo video